Ben ritrovati a Valcuglia Informa. Tra i compiti principali di Comunità Montana vi è anche la promozione e la gestione dei servizi alla persona, tra questi anche asilo nido e in forma lavoro. Possiamo parlare appunto di questa istituzione per i servizi alla persona. Sì, l'istituzione è nient'altro che l'ente strumentale che Comunità Montana ha creato per gestire i servizi sociali di Comunità Montana. Infatti la nostra istituzione gestisce il tavolo della 328, poi gestisce l'asilo nido, gestisce l'informa lavoro e gestisce il servizio associato a 13 comuni di Comunità Montana. 13 piccoli comuni. Direi che l'opera e l'intervento che la nostra istituzione fa è mirato proprio ad aiutare, a interpretare e a individuare le necessità che la nostra popolazione fa emergere nella Comunità Montana. Sul discorso dell'informa lavoro noi partecipiamo con la provincia di Varese a questa forma di assistenza alle persone, alle aziende e alle scuole, dando tutte quelle informazioni necessarie per poter trovare occupazione, per poter informare le aziende sulle esigenze locali delle persone che perdono lavoro o che comunque si approcciano al mondo del lavoro e alle scuole, soprattutto ai giovani, perché possano fare delle scelte e poi trovare quell'occupazione che un domani è, diciamo così, alla base della loro vita sociale. Cerchiamo di spiegare che cos'è il piano di zona e quali sono i servizi. Ecco, il piano di zona, che corrisponde poi alla legge 328, è nient'altro che il piano di coordinamento dei diversi servizi sociali, sia per il discorso dei minori che per il discorso del Nile e del SIL. Sono 26 comuni che partecipano al piano di zona nostro, vi è un'assemblea del distretto sociosanitario che ha affidato all'istituzione la gestione vera e propria. Uno dei servizi importanti offerte è appunto quello dell'asilo nido. Sì, il nostro asilo nido è un micro asilo nido attualmente, in quanto che ha la capacità di 20 posti per bambini. È in progetto e a breve termine parterà la costruzione di un nuovo asilo nido di tipo anche aziendale, che avrà la capacità di 60 posti, visto che l'esigenza che è stata manifestata in questi anni è quella di avere una capacità di questo tenore. Noi riteniamo che si svolga un'attività fondamentale per la nostra zona, per la nostra comunità montana, in quanto la richiesta esiste ed è sempre pressante. Le liste di attesa sono sempre superiori ai 50 bambini, per cui credo che sia doveroso poter soddisfare questa esigenza, che è una esigenza reale. Il servizio Informa Lavoro è un servizio rodato, possiamo parlarne? Il servizio Informa Lavoro è un servizio che è da anni in atto in comunità montana ed è un supporto molto importante per i servizi sociali della comunità. Il servizio Informa Lavoro si interessa di numerose offerte che vengono date ad utenti di vario genere. L'utenza spazia da le persone che necessitano di un orientamento al lavoro, quindi di un rinserimento nel mondo del lavoro o di un inserimento primario, con supporto appunto di informazioni, non tanto di un contatto con l'azienda stessa, cosa che fa molto bene il Centro per l'Impiego, che lavora in rete con l'Informa Lavoro. L'Informa Lavoro è coordinato dalla provincia di Varese, è un servizio proprio coordinato dalla provincia di Varese. Esistono veramente numerose informa a lavoro che danno un supporto notevolissimo a tutta l'utenza della provincia. Un'altra cosa importante è l'orientamento scolastico che viene effettuato per i ragazzi delle scuole medie, quindi del terzo anno, che necessitano di un inserimento nella scuola superiore, con attività di supporto come organizzazione di eventi, quali saloni dell'orientamento, e per i ragazzi invece della scuola superiore che necessitano di un inserimento in quello che è il mondo del lavoro e dell'università. Quindi anche in questo caso vengono organizzati eventi molto importanti, come il salone dell'orientamento, che tra l'altro verrà organizzato la prossima settimana, il 7 marzo, presso l'Istituto Stein di Gavirate. Un'altra cosa molto importante è anche il supporto che viene dato alle aziende, le aziende come consulenza per quanto riguarda la parte normativa e di supporto alla mobilità dei lavoratori, con incontri formativi, incontri di orientamento che proprio favoriscano il reinserimento lavorativo dei soggetti che hanno perso lavoro o comunque che stanno lavorando all'interno delle aziende. Grazie.